Sindaco, buongiorno, oggi presentiamo il sportello telematico per l'edilizia privata del Comune di Monte Sant'Angelo che si sta digitalizzando. Sì, stamattina abbiamo presentato un ulteriore tassello di questa informatizzazione che stiamo facendo dalla pubblica amministrazione, in particolar modo del Comune di Monte Sant'Angelo. Il progetto prevede vari step, abbiamo ascoltato, adesso è l'edilizia privata, però si sposterà anche per le gare pubbliche e altri settori? Sì, sicuramente, questo è il primo step, stiamo implementando la piattaforma già esistente che è partita con un sistema informativo territoriale, sempre della Globo GIS, e adesso abbiamo presentato lo sportello telematico per l'urbanistica, a breve attiveremo anche quello dei lavori pubblici, il SUAP, quindi per lo strumento che accompagna le attività produttive, invece è già operativo da qualche mese. E' annunciata anche una nuova test per il sito web del Comune, anche per quello turistico, che insomma sono un po' datati? Beh, Monte Sant'Angelo non ha investito molto su questo punto, ecco, a breve uscirà una manifestazione di interesse, iniziamo questo percorso che culminerà con il sito istituzionale, che avrà una nuova veste, soprattutto una veste conforme alle nuove linee guida Agid, e implementato anche con la sezione turismo, importantissima per noi, oggi invece ferma, diciamo, è non troppo funzionale.